sono a chioggia e alcuni dei ristoratori mi hanno fatto un omaggio è un omaggio particolare che ovviamente porterò a roma perché cosa c'è qui dentro qui dentro ci sono le tessere elettorale e alcune licenze copie di licenze della nostra ristorazione allora visto che siamo all'aperto scusa Nappi mi tolgo la mascherina siamo all'aperto quindi fammi capire una cosa voi non avete ricevuto proprio niente cioè dei ristoratori zero dal 2019 abbiamo avuto la stessa acqua alta che aveva Venezia l'acqua della laguna era la stessa non è che fosse un'acqua venuta da qualche altra parte un metro e 87 aveva Venezia e uno e 87 avevamo noi non abbiamo avuto una lira una lira e il ministro allora segretario d'inca venne qui feste la sua passerella e assieme al nostro sindaco il sindaco ferro e naturalmente ci promise i ristori naturalmente la nostra amministrazione grillina sbagliò completamente la domanda perché la mandò ad altri enti e noi ancora adesso i soldi sono lì fermi stiamo aspettando i ristori vergognoso secondo me e quindi poi capite perché arriviamo a questi atti arriviamo perché c'è una privazione all'inizio c'è un'umiliazione all'inizio per errori loro commettono sempre errori e poi non pagano mai e poi alla fine uno dice te ti do la copia della licenza almeno capire e queste sono le tessere elettorali perché vengono qua in campagna elettorale si prendono i voti e dopo e dopo noi siamo qui ad aspettare di riaprire aspetta ma tanto finché c'è speranza campo a cavallo però magari speranza lo riusciamo a mandare via vediamo chi vota vota e per ora siamo in pochi per ora sulla mozione di sfiducia individuale contro il ministro speranza c'è tale exit c'è fratelli d'italia e c'è alternativa c'è basta gli altri se ovviamente dovessero mantenere ancora speranza perché il pallottoliere della del senato e della camera dirà un verdetto diverso beh sapete con chi prenderla